Allora, sì, penso che sto registrando, sì, sto registrando, bene, bene, allora Amici e amiche di YouTube, ciao a tutti, vabbè, lasciamo stare le presentazioni Sono insieme al caro amico Elfo Intenso, che ovviamente non faccio, perché la faccio, perché sennò diventa tutto rosa, infatti Verde Verde, diventa tutto verde, come un elfo Comunque ragazzi, cosa sta succedendo qua? Allora, io sono da Elfo Intenso per un po' di tempo, sarò Fino, penso ai primi di agosto, poi penso che farò un'altra pausa, credo, me ne andrò, raggiungerò il signor lupo Bisogna vedere, comunque farò pochi video, cioè non ne farò proprio, non ne farò proprio video Attenzione, attenzione al che kill Comunque, appunto, in questo periodo che starò dall'Elfo Intenso, non potrò registrare, non potrò fare video Faccio sì e no questo video, appunto, per informarmi che in realtà starò a fare live Perché l'Elfo Intenso ha qua, il signor Intenso ha qui la 110 miliardi di mega La 200 mega overpower e quindi si streama sul nuovo canale che abbiamo deciso di aprire appunto su Twitch Ovviamente ve lo lascio in descrizione, mi ricordo passate, passate soprattutto a salutarci, a condividerlo E soprattutto vedete tipo qua, vi faccio vedere tipo un'anteprima di cui si mette in, ecco La grafica l'ho fatta tutta io, adesso ce n'abbiamo tipo due ma mi sa che, no, sempre due Quindi ragazzi mi raccomando lasciate, lasciate, non lo so, un commento, un follow, un qualsiasi cosa Basta che ci supportate, che ci dite magari che cosa possiamo fare, cosa possiamo non fare Cosa possiamo, cosa possiamo, non lo so, qualcosa, vabbè, lasciamo stare Oh, ehi senti è difficile fare video in live così a caso, senza montaggio, senza nulla Perché appunto sto senza computer, senza i programmi di editing, senza nulla E quindi sicuramente uscirà una mezza merda, ma chi se ne frega E nulla ragazzi, spero che questo video anche se è breve è molto intratteniente Com'è che si dice? Non lo so, non ti sto sentendo E va a fatica, non mi sei d'aiuto Intrattenitivo E trattenitivo, vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta che farò un video Ciao a tutti, un saluto anche a lei, saluti, ciao Ok, ciao, ciao ciao Ciao